Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di Around the Table. Oggi vi voglio parlare del motivo per cui non sono a Lucca Comics, perché insomma non ci torno dal 2014 e perché da un paio di anni a questa parte non ne faccio nemmeno più un dramma. Insomma, questa è una sorta di Walk of Shame. Il board game Innanzitutto, prima di raccontarvi tutte queste cose, devo fare un paio di doverose premesse. La prima la faccio sempre quando si parla di cose che non riguardano direttamente i board game. Sono un nerd a 360 gradi, i fumetti sono la mia prima grande passione. Vi ho parlato infatti su questo canale di fumetti americani. Abbiamo parlato di anime. insomma dovrebbe essere questa cosa abbastanza chiara la seconda poiché sono un nerd a 360 gradi ho visto diverse fiere sono andato all'Expo Cartoon quando esisteva ho fatto il Romics sia da turista che da stendista e ovviamente sono andato a circa tutte le edizioni del Napoli Comic Con anzi diciamo tutte e anche in quel caso sia come turista che come stendista quindi le fiere le conosco conosco l'ambiente l'ultima premessa che devo fare è che vado in una fumetteria da circa 25 anni sempre la stessa Inchiostre e Tempera già l'ho nominata qualche volta su questo canale la mia fortuna è che Armando il proprietario di Inchiostre e Tempera è sempre stato una persona molto un vero e proprio pure lui nerd gli sono sempre piaciute determinate cose prima di tutto ovviamente i fumetti ma anche i gadget nella sua fumetteria io ho visto le prime statue in resina sideshow nella sua fumetteria ho visto le prime Bowen e anche le ultime ma al di là delle statue in resina Armando è sempre stato una persona in grado di trovare delle novità i primi Nendoroid li ho visti da lui i primissimi Funko Pop li ho visti da lui quando cercavo un pop di One Piece per oltre di Soul Pirates da lui c'erano sempre i gadget da cucina a tema nerd di Star Wars di Harry Potter le bacchette di Evangelion insomma questo genere di cose le ho sempre viste nella mia fumetteria di fiducia anzi Armando spesso mi dava anche i cataloghi dove acquistarli mi diceva i siti dove poter guardare le novità insomma anche su questo tipo di cosa sono molto avvezzo fatte queste doverose premesse possiamo proseguire quando si parla di Lucca Comics da un paio di anni a questa parte anche prima del Covid la prima cosa che si nomina è sicuramente il caro alloggio a Lucca gli appartamenti costano veramente tantissimo negli ultimi anni soprattutto dopo la pandemia la cosa è esplosa Antonio Moro i tomi di incauto acquisto posta sempre in questo periodo una foto in cui si paragona Lucca Comics a New York a Capodanno e sembra quasi che gli affitti per Capodanno a New York costino di meno è probabilmente proprio così ma ragionare solo in base al caro affitto sarebbe del tutto irragionevole per quanto riguarda la fiera come Lucca Comics per quanto mi riguarda la situazione è molto diversa ma andiamo con ordine voglio prima raccontare la mia storia con Lucca Comics io ho deciso di andare a Lucca Comics nel 2004 ricordo perfettamente il momento stavamo uscendo dall'anteprima di Daredevil il bruttissimo film con Ben Affleck che si può salvare soltanto per l'Electra di Jennifer Garner che in realtà era troppo bella per fare Electra abbiamo preso una divagazione e usciti da quell'anteprima durante il Napoli Comic Con parlavo con i miei amici col gruppo enorme con cui andavamo semifera e parlavamo di Lucca facevo vedere le cose avevo comprato e pensavo che a Lucca avrei trovato molto di più moltissimi in quel frangente dicevo si Lucca che bello andiamo così decisi che sarei andato a Lucca però ero ingenuo e pensavo che per trovare un alloggio a Lucca sarebbe bastato a settembre collegarmi su internet cercare un po' i vari bed and break pass e trovarlo qui settembre 2004 mi connetto a internet ma non trovo assolutamente nulla allora nel 2005 decido ok quest'anno lo faccio un po' prima ad agosto niente 2006 ad aprile niente 2007 sempre sotto Comic Con ancora una volta niente quando nel 2008 a febbraio anzi il 31 gennaio 2008 comincio a mandare tantissime richieste per gli appartamenti a Lucca Comics c'è da premettere un'altra cosa noi siamo un pochino ciusi come si direbbe praticamente volevamo un appartamento nelle mura e non prevedevamo minimamente di andare a vivere a Montecatini per fare avanti e indietro con la macchina no noi volevamo essere comodi ok questa era una cosa imprescindibile quindi faccio le richieste e finalmente trovo un appartamento un appartamento a via San Paolino vi do un attimo per cercare via San Paolino su Google Maps ok avete visto che è proprio al centro della fiera contatto il proprietario me la fitta e in quel caso il proprietario ci fitta la casa a 17 euro a notte per i quattro giorni della fiera un prezzo esageratamente positivo noi subito entusiasti fermiamo la casa io subito mando l'anticipo senza neanche dirlo alla mia ragazza che incidentalmente era sportiva che sarebbe venuta con me fermo tutto blocco ok dovevamo andare in due subito dopo si rinunisce un altro amico contatto il proprietario dice ma vabbè dammi 18 ore e 50 dopodiché mi contatta un altro amico in settembre che sarebbe venuto con noi a quel punto ricontatto il proprietario per onestà intellettuale e lui mi dice vabbè tranquillamente 20 euro a notte e questo è stato quanto abbiamo pagato il primo anno a Lucca 20 euro a notte a testa per quattro persone un prezzo decisamente positivo ma era comunque il 2008 quindi partiamo in quattro per Lucca Comics e quindi finalmente riesco ad andare a Lucca Comics Lucca Comics sono fondamentalmente due cose più una cosa personale la prima la fiera la fiera vera e propria è tutte le fiere che si trovano in Italia compattate ed esplose su un calpessabile che è paragonabile a quelle di un quartiere di una grande città quindi tutti gli stand che trovo normalmente Romics Romicon Expo Cartoon che già non esisteva più li troviamo spalmati sul calpessabile delle mura di Lucca se ero abituato a avere a disposizione i gadget della fumetteria in Chiostro e Tempere che sono veramente varissimi lì ho avuto ancora più possibilità di scegliere se cose come le statue non mi hanno mai sconvolto perché le ho sempre viste vederne così tante insieme una varietà così ampia mi aveva sconvolto anche quelli che vendevano i fumetti i rigattieri che vendevano i fumetti mi hanno colpito ho comprato cose che non sapevo di non avere cose che non pensavo che mi servissero inoltre c'erano ovviamente gli editori la possibilità di parlare con un autore di fare le firme di acquistare libri e poi farseli firmare cosa che normalmente succedeva nel fiera ma a Lucca c'erano più novità più edizioni speciali più tutte queste cose in questo ambito parlando con gli autori ricordo con molto affetto non so se proprio nella prima edizione o in altre edizioni che incontrai Stephen Silver l'autore del character design di Kim Possible un cartone animato di Disney degli anni 90 forse anche 2000 con lui non mi feci fare nessuno sketch perché ormai era tardi però ci fermiamo a parlare un bel po' di tempo con il mio inglese estentato però lui fu molto molto cortese la seconda cosa che devo dire su cosa è Lucca Lucca è un happening è una situazione non è solo una fiera ora immaginate come vi dicevo una fiera in Romics esplode all'interno di un quartiere di una città questo quartiere viene invaso da appassionati di fumetti ma anche da cosplayer è come se per 5 giorni la città stessa si mettesse in cosplay quindi vedi i tavolini del bar Gem delle hologram prendere un caffè con pizza delle misfits Gem delle hologram è un cartone degli anni 80-90 in cui una donna si trasforma in una cantante new wave post punk oppure una famiglia interamente vestita da mamma aiuto quelli vestiti da Yattamani protagonisti di Star Wars in carne ed orsa senza contare poi le sfilate gli eventi le situazioni che per l'appunto facevano vivere il centro storico di quella città una situazione meravigliosa che per la prima volta chi chi la vede per la prima volta rimane decisamente sconvolto abbiamo un amico che si perdeva sempre e per darci indicazioni diceva guarda mi puoi trovare vicino ai la banda bassotti ma quelli vestiti bene e qui tu li trovavi subito tutti non è vero non trovavamo mai nessuno quindi la varietà della fiera l'happening e poi c'era una cosa personale la vacanza tra disagiati quella lucca comics fu meravigliosa perché facevamo un vero e proprio road trip nerd come vi dico sempre a lucca comics in quel lucca comics è ripartito è ripartita la mia passione per i board game grazie all'acquisto di crag morta ricordo con enorme affetto la possibilità quando acquistai quella scatola di crag morta e subito dopo mangiato tutti insieme con gli amici in cui eravamo andati ci mettemmo a giocare questa storia la trovate in un altro video quello dei 100 video sul canale quindi la fiera esplosa su un'intera cittadina medievale circondata da mura l'happening la situazione personale lucca comics era per me questo e soprattutto con un prezzo dell'alloggio veramente molto basso per noi il primo anno fu meraviglioso ci divertimmo tantissimo il secondo anno in realtà non sapevamo se ci volevamo ritornare contattai il proprietario di questa casa che ci aveva fittato per il primo anno e lui ci disse che non avrebbe fittato io rimasi un po' male perché mi avrebbe fatto piacere spendere così poco comunque mi rimisi alla caccia purtroppo era già aprile e mi dovette accontentare di una casa poco distante dalle mura in una zona che si chiamava Arancio in quel caso cambiò leggermente il setup delle persone che venivano con noi lasciamo l'amico megalomane per l'amico pieno di smalto mi pare che in quell'occasione pagammo un 25-30 euro a notte per le 4 notti di fira fu un po' di più però fu ancora una spesa decisamente abbordabile partimmo tutti insieme ancora una volta la situazione i concerti la possibilità di acquistare qualsiasi cosa ci colpì tornammo come sempre a casa pieni di fumetti gadget e meraviglie varie e fu un'altra situazione molto bella il terzo anno tornammo con il setup abituale ma eravamo questa volta in 5 perché 4 partivano con me in un'auto e un'altra persona ci avrebbe raggiunto di lì a poco quindi cercai una casa leggermente più grande e questo fu il primo anno dove successe qualcosa di un po' strano quando fittai la casa il proprietario mi fece mi pare che pagammo 110 euro in totale a persona per tutti i giorni della fira però il proprietario ci chiese di pagare a parte le utenze 50 euro di gas io gli dissi ma perché non puoi farmela pagare direttamente se sono 50 euro se perché se sforio poi ti posso chiedere qualcosa di più e se spendo di meno no se spende di meno no rimanemmo molto male ma comunque poché non era non trovavo di meglio a consentire e partimmo la seconda cosa che successe strana con questo proprietario di casa è che una giornata ci trovammo dentro casa delle persone che lui aveva portato a far vedere l'appartamento con tutte le nostre cose sparpagliate le cose che già avevamo comprato durante i comics fu molto molto brutto e antipatico non spendemmo i 50 euro di gas perché ci facemmo caso ma vabbè non fa niente quello fu l'anno in cui venne a piovere incessantemente per quasi tutti i giorni della fiera ma nonostante questo rimase tutto come delle impressioni che ci aveva dato fino a quel momento la fiera era bellissima gli eventi erano bellissimi i concerti ci facevano sempre divertire tanto compravamo come se non ci fosse un domani anzi comprammo come se non ci fosse un domani nonostante io e la mia ragazza che la sportiva incidentalmente fossimo andati in settembre in Giappone nonostante questo comprammo tutto ci divertimmo l'unico problema fu appunto la pioggia ma quella non dipendeva da nessuno l'unica cosa è che perché pioveva fu una benedizione avere una casa all'interno delle mura perché potemmo tornare a casa a riposarci ad asciugarci per poi riscendere una volta che avesse finito di piovere e così effettivamente fu ci divertimmo fu molto bello però fu l'ultimo anno che un caro amico che aveva venuto con noi per tutti i tre anni decise di non tornare più a Lucca Comics e fu un po' un dispiacere molto grave per me ma nonostante questo l'anno successivo Lucca Comics per farsi perdonare della giornata di pioggia decise di allungare a cinque i giorni di fiera ci guardammo un po' negli occhi con la mia ragazza cercando un nuovo partner per venire per tornare a essere qua per dividerci meglio le spese di viaggio e di alloggio e troviamo un'amica che sarebbe voluta venire con noi quindi eravamo ancora una volta in quattro e ancora una volta pronti per partire trovai una casa che chiedeva cinquecento euro cento euro al giorno eravamo quattro di noi cento euro al giorno si poteva tranquillamente fare sarebbero stati all'incirca meno di trenta euro al giorno quindi tranquillo riuscivamo tranquillamente a farlo partimmo e andammo per tutti e cinque giorni in quell'occasione la fiera cominciò a mostrare un pochino il fianco non so se io perché avevo fatto tre edizioni di fila o perché effettivamente cinque giorni di fiera sono decisamente troppi ricordo con molta precisione alcune sensazioni che provai durante quella fiera la prima ricordo che l'ultimo giorno la domenica non entrammo praticamente mai nei padiglioni giramo per la città molto strano ricordo con molto fastidio uno degli eventi ovvero c'erano i gemelli Weasley di Harry Potter e non riuscimmo nemmeno lontanamente ad avvicinarci a dove facevano gli incontri la mia amica la mia ragazza erano andate proprio per loro e riuscirono semplicemente a fare capolino a vedere un pochino questi capelli rossi di quell'edizione ricordo anche molto chiaramente gli stand delle case di produzione di telefilm e film ricordo che feci una fila di all'incirca tre quarti d'ora per entrare in uno stand di vendita normalissimo che aveva i prodotti che costavano di più di quanto non costassero gli altri stand questa cosa mi fece decisamente arrabbiare ci rimasi malissimo ad ogni buon conto quell'edizione fu la prima edizione dove cominciai a intravedere dei problemi ma comunque la situazione mi continuava a piacere e quindi decisi di prenotare una seconda volta sempre nello stesso appartamento se la signora che ce l'aveva affittato il primo anno avrebbe continuato a affittarcelo questa volta la signora ci chiese 550 euro da premettere che la casa era fondamentalmente un monolocale al piano interrato molto umido la ragazza che veniva con noi una maniaca della pulizia lavava per terra sempre costantemente di notte di giorno tornava a casa prima per pulire e la casa nonostante stesse sempre a pulire ad asciugare era sempre completamente umida feci presente alla signora che eravamo quattro e che forse non ce la facevamo la signora mi disse guarda ho parlato con mia figlia e questi sono i prezzi che ci possiamo permettere di offrirvi quindi ci passiamo una mano sulla coscienza diciamo va bene perché ce l'ha conservata quest'anno torniamo a venire da voi andammo e per il secondo anno consecutivo la fiera stessa mi diede lo stesso feeling dell'anno precedente e in più si aggiunse qualcosa per la prima volta notai che i gadget in vendita erano effettivamente meno di quanto non fossero gli anni precedenti per la prima volta notai quanto gli stand che vendevano non so io le statue fossero popolati sempre dalle stesse cose e quanti in realtà stand che vendevano quelli che vengono definiti bootleg fossero molti di più vedevo con un po' più di fastidio gli stand che vendevano ad esempio le orecchie oppure i poster sgranati stampati sempre dalle stesse persone che erano poi in quello stand nulla di male contro questo più o meno però non era quello che io volevo dalla fiera io volevo comprare io ho sempre speso tantissimo sempre comprare che qui si vede solo lego ma i robot avevo intenzione di comprare i nendoroid avevo intenzione di comprare i revoltek ne trovavo sempre meno ed erano sempre c'era sempre una verità maggiore da inchiostro e tempera e la cosa mi sconvolgeva ovviamente non ho ancora parlato del Carducci devo dire che in sei anni di Lucca Comics non sono mai riuscito a sedermi al Carducci l'anno successivo ci andai solo esclusivamente per i giochi da tavolo per comprare delle novità ancora una volta troviamo un'altra persona che aveva sostituito la nostra amica e ricontattai la signora di quell'appartamento la signora quest'anno avrebbe chiesto 650 euro troppo per quella casa quindi io la contattai e le dissi signora 650 euro sono veramente eccessive la casa è piccola noi siamo comunque degli studenti universitari non lavoriamo si potrebbe passare una mano per la coscienza sa come le ho sempre trattata con molto affetto come se fosse mia nonna il primo anno io l'avevo lasciato un commento su Airbnb lei mi chiamò a casa in lacrime ringraziandomi per quel commento perché veramente mi ha dato un feeling veramente di una nonna con dei nipoti quando mi chiese 650 euro rimasi veramente molto molto amareggiato lei disse va bene non ti preoccupare facciamo i 550 come l'anno scorso mi non riesco facemmo così arrivammo alla casa saldai quanto dovevo saldare e venne aggredito verbalmente dalla figlia della signora che disse che avevo truffato la madre che mi avrebbero fatto la nera in quella casa però sarebbe stato l'ultimo anno c'è da premettere che quell'anno eravamo solo tre e quindi anche 550 euro per me furono tanti forse ho saltato comunque siamo rimasti tre anni in questa casa il secondo anno pure fu un po' strano nell'edizione del 2013 ancora una volta vidi la fiera per quello che era diventato se si andava spesso per farsi fare le autografie dai fumettisti in quel caso trovavo l'offerta dei fumettisti sempre meno interessante io facevo quasi esclusivamente la fila per zero calcare che amo con tutto il mio cuore però ovviamente c'erano altri modi per incontrarlo non trovai nulla di interessante dal punto di vista dell'anteprime ancora una volta acquistare gadget e cose nuove diventava sempre più difficile forse mi sarei dovuto rassegnare a comprare delle sciocchezze per fare dei regalini agli amici comunque divenne sempre più complicato anche nel carducci trovare delle novità con delle promo potersi sedere a provare i giochi diventava ogni anno sempre più difficile insomma tornati a casa da quell'edizione decise che io a Lucca Comics and Games non sarebbe andato o meglio non sarei andato l'anno successivo questo era il 2015 il 2016 si apre con la consapevolezza che io non sarei andato a Lucca Comics fino a quando Bao Publishing non pubblica la notizia che Fiona Staple e Brian Kevogan non sarebbero venuti a Lucca per autografare i Saga ricordate quello che vi ho detto 20 minuti fa io sono un nerd a 360 gradi amo i fumetti ecco Saga è stato uno di quei fumetti che se mai avessi voluto smettere di leggere i fumetti mi avrebbero riportato violentamente dentro e così ha fatto Saga è un fumetto imprescindibile che dovete acquistare ora quindi contattai la mia ragazza parlammo e ci dicemmo facciamo un'ultima cavalcata verso Lucca Comics and Game decidiamo di andarci anche quest'anno solo per Fiona e Brian lei mi disse che non lo sapeva che dipendeva tutto dagli appartamenti certo saremmo stati soli in due e spendere 300 euro a testa per un appartamento non era il caso quindi sarei dovuto essere molto molto bravo nel trovare un appartamento più economico e così feci con un'abilità non da poco spulciai tutto Airbnb alla ricerca di un Airbnb che fosse costato relativamente poco e trovai la casa di questa signora sui tetti di Lucca era un appartamento per sole due persone e la signora chiedeva 250 euro per il periodo del comics certo lei aveva deciso di fittare quella casa in ultimo e era anche una prova quindi io subito la contattai pagai l'anticipo e mi recai a Lucca Comics quell'anno fu molto diverso dal solito eravamo solo in due e per quanto siamo molto affiatati e abbiamo praticamente le stesse cose non era esattamente come fare un viaggio un road trip tra disagiati era più che altro un romantico weekend lungo tra disagiati ad ogni buon conto vivemmo la fiera e ancora una volta trovammo tutto come avevamo trovato negli anni precedenti non c'era più la fiera dei primi anni non c'era più quella voglia di scoperta i cosplayer cominciavano a darci sui nervi occupavano chilometri nei padiglioni non ci davano nemmeno la possibilità di sapere cosa ci fosse all'interno di uno stand se avessi voluto acquistare qualcosa e ancora una volta gli stand promozionali erano veramente degli specchietti per gli allodole ricordo che feci una fila chilometrica per entrare nello stand della Warner per decidere non voler acquistare assolutamente nulla a un prezzo maggiore del normale certo in quelle occasioni riuscii a sedermi al tavolo per provare qualche gioco certo portai a casa season ma se devo essere onesto non era proprio la fiera che intendevo io andare acquistare un nerf solo un season senza vedere null'altro e quindi nel 2014 decise che quella sarebbe stata la mia ultima lucca comics in game però devo dire anche che ogni tanto gli annunci di lucca mi interessavano negli anni successivi decidisi di creare il meeple da fiera chi frequenta la roundtable su facebook dall'inizio sa benissimo che facevo sempre questi meme e degli amici che andavano portavano sempre qualcosa ad esempio i grossini la Bonelli fece uscire questi piccoli spillatini dedicati a Groscio Marx disegnati da alcuni autori io decisi di farmi prendere quello disegnato ovviamente da Zero Calcare e da Giacomo Bevilacqua perché sapevo che dovevano essere delle edizioni speciali in vendita solo esclusivamente a lucca comics quindi dissi a questo amico che quello che avrà venuto con noi durante quasi tutte le lucca comics edo compramelo edo li compra mi compra anche altre cose un po' per me un po' per la fumetteria un po' per alcuni altri amici e mi riporta tutto lo ringrazio ovviamente gli do i soldi ma la cosa tragica è che un paio di mesi dopo sei mesi dopo al Napoli Comic Con trovai gli stessi grossini in vendita allo stand Bonelli al Comic Con e questa cosa mi fece impazzire perché era la dimostrazione ancora una volta che lucca comics non era quello non era il luogo dove io potevo trovare la cosa unica neanche presso gli editori non era il luogo dove io avrei trovato qualcosa di speciale un'edizione speciale per l'appunto una cosa unica no era diventata una fiera come tutte le altre solo estremamente più grande e per questo rimasi profondamente deluso ma rimasi anche convinto della mia scelta ho mandato i miei meeple da fiera in un paio di edizioni di lucca e mi sono accorto nel 2018 che non c'era veramente nulla che mi interessava in questa lucca comics però era il 2018 erano 10 anni dalla prima volta che ci andai contattai un po' gli amici e parlando mi sarebbe piaciuto ritornarci ma nessuno di noi effettivamente voleva andare a lucca comics and game sapevamo ormai che non ci interessava più e che quella fiera non sarebbe stata sicuramente la fiera del 2008 e da 2018 ad oggi non mi è mai più tornata voglia di andarci cosa voglio dire con questo video e perché non è una non è semplicemente una walk of shame quello che mi ha allontanato da lucca sono una serie di cose la prima la più evidente e per quanto vi riguarda probabilmente a questo racconto è probabilmente il prezzo dell'alloggio l'alloggio è salito dai 20 euro a notte a persona fino ai 70 100 io non so neanche oggi quanto costi effettivamente per notare a lucca ma è soltanto uno degli aspetti il secondo aspetto è che forse io sono cambiato questo è quello che mi fa un po' vergognare certo sono più grande sono più vecchio mi danno fastidio più cose tutto quello che trovo oggi c'è sui che voglio oggi c'è su internet e forse non spenderei la stessa cifra soltanto per acquistarlo in un happening è vero ma non è tanto vero perché comunque in fiera io compro la cosa che in realtà mi tiene lontano da lucca comics è che le fiere tutte le fiere sono profondamente cambiate nell'arco degli ultimi 20 anni le fiere e soprattutto negli ultimi 10 le fiere hanno profondamente cambiato il loro modo di essere quasi tutte questa tipologia di fiere nasceva come fiera del fumetto che si allargava ai giochi da tavola ai giochi di ruolo a magic cose che piacciono a tutti poi a un certo punto l'editoria per immagini le serie tv e i film hanno abbracciato il nostro immaginario e quindi si è affacciato anche il cinema poi ovviamente i videogiochi o forse prima i videogiochi e sono diventate cose sempre più larghe sempre più larghe a un certo punto all'interno di lucca comics non venivano presentati solo i film inerenti al mondo dei fumetti dei fantasy o di cose similari però presentati ogni genere di film ed è anche giusto sia ben chiaro ma perché io dovrei andare a vedere quei film proprio a lucca e non magari alla mostra del cinema di venezia e questa è la cosa che forse mi tiene più lontano possibile da lucca comics effettivamente io che sono un nerd a 360 gradi forse vorrei che questa fiera non fosse a 780 gradi ma si chiudesse un po' più verso quelli che possono essere gli interessi veramente dei nerd la cosa so che sembra egoista e sembra un discorso stupido so benissimo che è una benedizione che la cultura nerd sia diventata mainstream in un certo punto però poi ti trovi in un ambiente che una volta era il tuo a trovarti completamente spaisato e questo è una cosa che non dipende solo dall'età perché sono straconvinto che a 20 anni andare a lucca comics e trovarsi completamente spaisato in una fiera che non parla più a te ma a qualsiasi altra persona ti confonderebbe ecco io ricordo che nelle prime lucca comics and games c'erano delle persone che immagino avessero l'età mia ora 40 anni vestite da Spock e Capitano Kirk della serie classica di Star Trek sono quasi sicuro che non si travestirebbero non farebbero i trekkies nella lucca di oggi se siete all'ascolto smentitemi perché neanche io che non mi sono mai messo in cosplay mi andrebbe di farlo in un ambiente dove non vengo effettivamente capito queste sono le motivazioni fondamentali per cui non vado a lucca comics in game dal 2014 nonostante abbia dei bellissimi ricordi e ogni tanto mi venga il dubbio appena parlo con gli amici che venivano con me siamo tutti da concordi che non ne vale più la pena e queste sono le mie motivazioni per le quali non vado più a lucca comics in games a questo punto dopo oltre mezz'ora di video se siete ancora lì mi aspetto di sapere voi cosa ne pensate di lucca comics quali sono le vostre considerazioni perché ci dovrei tornare e quali sono le motivazioni che tengono lontani voi da lucca comics in games ovviamente vi invito a scrivermi un commento qui su youtube ma anche su facebook qui stantammo twitter e tiktok a questo punto non resta altro che salutarci per ritrovarci sempre qui sempre a lucca comics a roundtable ciao a tutti